Se nei prossimi 3-4 giorni verificheremo con i nostri epidemiologi che la curva del contagio anziché stabilizzarsi o scendere leggermente si aggrava, noi chiuderemo tutto. Perché se l'alternativa è passeggiare in allegria o avere i morti per strada, io credo che non ci siano dubbi sulla scelta che facciamo. Non è una cosa che fa piacere dire, ma abbiamo il dovere di dirla. Grazie. 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 Grazie.